Un milione di mattoncini per più di 80 sculture, tutte in Lego, dal partenone al dinosauro tipo Jurassic Park lungo 6 metri, al pensatore di Rodenna, Skulls e Yellow. Lavori tutti da vedere e meditare per comprendere il mondo moderno. Un viaggio come un sogno per ritornare bambini e far volare la fantasia. E la mostra The Art of the Brick in corso fino al 14 febbraio allo spazio set di Roma dell'artista americano Nathan Seguaya. E a fine mostra nell'area gioco grandi e piccini si divertono insieme per sognare un mondo migliore, un pianeta più bello. Al prossimo episodio è stato creativo. Al prossimo episodio è stato creativo.